Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Cinque persone denunciate dalla polizia per maltrattamento Cani incustoditi, padroni multati dalla polizia locale di Fano Palestra allagata, le ginnaste potranno andare al Nolfi Benefattore regala tre campane nuove alla Basilica del Patrono Torna a Sapori e Aromi d'Autunno, la festa dei prodotti della terra Sarà Nino Frassica l'ospite del Gran Galà del Gusto a Cartocetto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Cari telespettatori di Fano TV, apriamo con la cronaca Cinque persone e cinque uomini sono stati denunciati dalla polizia di Fano Per violenza, maltrattamenti nei confronti di alcune donne Tra l'altro queste violenze avvenivano anche in presenza di minori Gli agenti del commissariato di Fano, diretti dal dirigente Stefano Seretti Hanno indagato e denunciato cinque uomini, due italiani e tre stranieri Tutti gravitanti nel territorio fanese Per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi Atti persecutori, lesioni e violenza sessuale Le vittime, tutte donne, si sono rivolti agli agenti del commissariato di Fano Diretti dal dirigente Stefano Seretti A seguito delle continue sopraffazioni fisiche e psicologiche A cui erano sottoposte, in alcuni casi anche da diversi anni Dai loro coniugi, compagni o ex In tale contesto il commissariato di Fano ha recentemente attivato La procedura di codice rosso sotto la supervisione della procura della Repubblica di Pesaro Le indagini sviluppate dai poliziotti hanno evidenziato lo stato di assoluto timore Vissuto dalle vittime, indotto dalle continue violenze e privazioni Da episodi di gelosia ossessiva fino a vere e proprie aggressioni fisiche In un caso anche finalizzate a costringere la donna a subire rapporti sessuali contro la sua volontà In alcuni casi le violenze venivano perpetrate anche in presenza dei figli minorenni della vittima Ed anche direttamente con gli stessi intervenuti per cercare di difendere la propria madre In altri le donne venivano manipolate e condotte verso uno stato psicologico di assoluta fragilità Connotato da stress, ansia e timore anche ricorrendo a pesanti minacce Gli elementi acquisiti così hanno consentito all'autorità giudiziaria di emettere misure cautelari Nei confronti degli indagati Tra cui due provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare Con divieto di avvicinamento alla vittima e ai minori coinvolti Due divieti di avvicinamento ed in particolare Per quanto riguarda l'autore degli atti persecutori e violenze sessuali Di una custodia cautelare in carcere In un caso inoltre l'indagato inottemperante alla misura di divieto di avvicinamento alla vittima E' stato messo agli arresti domiciliari In questa, come in altre occasioni, è stato però determinante il coraggio Dimostrato dalle vittime nel presentare denuncia alle autorità Nonostante le difficoltà dovute alle minacce e all'isolamento nel quale versavano E che gli ha consentito così di tornare a condurre un'esistenza per quanto possibile normale La polizia di Fano lo aveva annunciato Ed ora arrivano le prime multe ai padroni di cani indisciplinati Coloro che non rispettano le leggi Vediamo Nel mese di ottobre era stata annunciata in una conferenza stampa Tenuta da assessore e comandante del corpo della polizia locale L'adesione da parte del comune di Fano Ad un progetto ministeriale sul fenomeno del randagismo E della corretta detenzione e conduzione dei cani Da parte dei proprietari negli spazi pubblici o nelle aree verdi comunali Questo progetto prevede anche controlli straordinari Da parte degli agenti in orari extra lavorativi Grazie ai fondi messi a disposizione da parte del governo Come annunciò allora lo stesso assessore Voglio ricordare che tutti i cani devono essere portati al guinzaglio E che un proprietario che esce a passeggiare con il proprio cane Deve essere dotato di sacchetto per raccogliere le deiezioni E così i primi risvolti di questa lotta senza quartiere Alle cattive abitudini si sono già fatti sentire Come è accaduto di recente nella zona del Lido Ed in un orario anche abbastanza insolito Le 6.30 del mattino Ecco dove lui in attimino è stato un minuto sciolto Per fargli fare una sgambata E le vigilesse insomma imperterrite Hanno voluto punire mia moglie Per questa disattenzione tutto qui Tra l'altro lui era insomma badato Cioè non era libero per i fatti suoi Era lì vicino a voi Sì sì lui i bisogni già li aveva fatti prima Era a due metri dalla mia fidanzata Tra l'altro lì è zona insomma demaniare Quindi è come se fosse in spiaggia Come se fosse nella spiaggia dedicata ai cani Si può dire perché E invece no Le vigilesse probabilmente Hanno avuto delle direttive Atte a multare insomma questi reati Perciò paghiamo la multa Però insomma chiedi un attimino Di capire e comprendi un po' la situazione Sì ecco perché magari no Le regole ci sono, vanno rispettate Però possono anche andare certo una volta Magari interpretate Dalla gravità, del fatto Ecco tutto qui C'erano bambini, altre persone vicino a voi? No a distanza di diversi metri C'era un'altra signora con il suo cane Che ho visto che Cioè mi ha raccontato da mia moglie Che ha avuto insomma anche lei a che fare Ho visto che parlava con le vigilesse Quindi non so se era in regola oppure Ecco perché diciamo è avvenuto alle 6 e mezza di mattina Sì alle 6 e mezza di mattina E voi eravate lì a quell'ora proprio per Evitare insomma situazioni di commissioni Ci andavano presto proprio per questo Sì esatto ci andavano presto proprio per questo Per fargli fare un attimo una sgambata Se c'è la possibilità sempre È chiaro che se vai alle 8 di sera Questo non è fattibile E sempre per la cronaca il proprietario del cane Ha pagato 65 euro di multa Ed ora parliamo invece della palestra di Cucurano di Fano Che nei giorni scorsi si è di nuovo allagata Dopo il temporale a causa delle infiltrazioni d'acqua dal soffitto L'amministrazione comunale di Fano Ha informato di aver trovato una sede provvisoria Ha fatto sapere di aver trovato una sede provvisoria Per la società Olimpia Che appunto lì si allena con le sue ginnaste E proprio loro sia le agoniste Che quelle che praticano l'avviamento allo sport Potranno utilizzare la palestra provinciale del liceo Nolfi Fino a quando quella di Cucurano non verrà sistemata E senza dubbio la soluzione migliore Scrivono in un comunicato stampa In quanto altre strutture avrebbero frammentato troppo l'attività Per alcune fasce orarie si è trovata la disponibilità Anche della palestra Tombari di Bellocchi di Fano Questa mattina sono arrivate a San Paterniano Dove sono costruite le reliquie del santo patrono della città di Fano Tre nuove campane E a donarle è stato un benefattore Il campanile della basilica di San Paterniano Il santo patrono della città Da oggi ha tre nuove campane in lega di bronzo Pesano rispettivamente 450, 220 e 115 chili Si vanno ad aggiungere alle 5 già presenti nel campanile Fedelmente ricostruito dopo che i tedeschi lo fecero saltare In modo da comporre tutta la scala armonica delle sette note Più un Do che si ripete Questo permetterà di poter eseguire tutte le composizioni liturgiche Cosa rara nel nostro territorio Infatti per trovare un'altra scala completa bisogna arrivare fino a Loreto Le tre campane hanno ognuna un nome Fede, speranza e carità Come ci ha spiegato il padre guardiano La fede che ci fa credere La speranza che ci fa sperare in una realtà eterna E la carità è il grande precetto dell'amore Tra Dio e gli uomini e tra di noi Ecco, nelle campane sono incise delle frasi In latino La traduzione è questa Fede La fede è confidare in Dio e nelle cose da Lui rivelate Speranza La speranza è desiderio di felicità eterna Che confida nelle promesse di Cristo Poi la terza campana La carità è il comandamento nuovo L'amore di Dio e l'amore del prossimo Per la città di Fano e la Basilica è un evento di straordinaria importanza Che darà grande lustro sia alla Basilica che alla città Il Santo è venerato in oltre 23 città in tutta Italia E patrono, oltre che di Fano, anche di Grottamare e Cervia Dove il 13 novembre si tiene una grande festa Grazie al contributo di un benefattore cittadino che vuole rimanere anonimo Alle 9.30 di questa mattina sono arrivate sul sagrato della chiesa Direttamente dall'antica fonderia De Poli In provincia di Treviso Fondata nel 1453 e che realizzò anche le altre campane della Basilica Domani ci sarà una celebrazione anche solenne per suggellare questo momento Sarà con noi il nostro Vescovo Armando Trasarti Che celebrerà insieme a noi una solenne celebrazione eucaristica E al termine di questa celebrazione benedirà le nuove campane E sarà presente con noi anche il nostro sindaco Per sentirle risuonare assieme alle altre però dovremo aspettare il 10 luglio In occasione della ricorrenza del Santo Patrono Per il momento restano all'interno della chiesa per essere ammirate dai fedeli Andiamo a vedere un attimo un nostro reporter di strada Che ci ha inviato questa fotografia, queste immagini anzi E qualche fotografia di quest'auto che è finita fuori strada Nella rotatoria del quartiere Tre Ponti a Fano A causa del manto stradale bagnato Si tratta di una Nissan di colore bianco Che è appunto uscita fuori strada in via Campanella Domenica prossima a Fano verrà rappresentato il meglio della produzione artigianale denogastronomica regionale Parte e prende il via infatti la 32esima edizione di Sapori e Aromi d'autunno Domenica 17 e 24 novembre il Codma di Rosciano torna ad ospitare Sapori e Aromi d'autunno La manifestazione vetrina delle eccellenze marchigiane più longeva della regione 32 anni di storia in cui sono stati presenti sotto le campate del Codma Migliaia di produttori, agricoltori e artigiani Fiore all'occhiello della regione al plurale Le marche hanno molto da dare a questo riguardo E Sapori e Aromi ha voluto sempre portare il meglio della produzione locale Nella spasmodica ricerca e selezione degli espositori Ricercati e voluti dagli organizzatori Quasi maniacalmente interpreti della marchigianità più spinta Due domeniche in cui i visitatori hanno a disposizione eventi, degustazioni e mostre Oltre ai 100 espositori e due eventi paralleli Il Baccala Fest e il Pasta Fest Siamo sempre noi da 32 anni con la stessa immagine anche grafica Sempre coerenti da come siamo nati Siamo cresciuti tantissimo per quanto riguarda tutte le iniziative Che di anno in anno vengono inserite Ma anche il contenitore della manifestazione, da sempre il Codma Sotto la pressante richiesta degli organizzatori alle autorità competenti Ha subito, grazie anche alla BCC, una importante opera di risernificazione e riqualificazione Sotto la struttura del fungo c'erano tanti varchi, tanti posatoi E si era posata una colonia di piccioni numerosissima Da quest'anno ci ritroviamo in una situazione sotto il fungo Sicuramente diversa da quella degli anni passati Con queste reti ci darà dei risultati che forse non ci aspettavamo Siamo molto felici di sostenere questa iniziativa In un posto che conosciamo bene perché lo utilizziamo anche noi Questa qui è la festa anche dei produttori Perché vengono in tanti E quindi sicuramente è da portare avanti, da ricchiare La manifestazione che chiude gli eventi autunnali Fa anche da anello di congiunzione con un altro grande contenitore regionale e provinciale Il Natale che non ti aspetti Un modo per dare visibilità, per mettere in vetrina i prodotti E questa vetrina deve diventare poi un'occasione di attrazione Quindi da una parte accoglienza dall'altra promozione Sapori e aromi è tra le manifestazioni di punta in questo ambito Anche per il comune di Fano Che vede in questo evento un importante momento di promozione e attrattiva locale I prodotti del nostro territorio Una vetrina per i produttori che si danno da fare tutto l'anno E che soprattutto in questo periodo vedono tutti i propri prodotti Eno gastronomici insomma a prendere forma, a prendere vita E crediamo che in questo caso Fano può essere il centro dell'attenzione per il prodotto ino gastronomici E c'è grande attesa invece per la chiusura L'evento di chiusura del cartoceto DOP Il Festival Che si terrà sabato con un gran galà del gusto Si chiama Gran Galà del Gusto E' l'evento di chiusura di Cartoceto DOP Il Festival Il grande spettacolo di eccellenze del territorio e di promozione della DOP di Cartoceto L'evento si svolgerà sabato 16 novembre dalle ore 20 presso il Maxi Dancing Settimo Cielo Si rinnova questo appuntamento con il Gran Galà del Gusto in occasione di Cartoceto DOP Il Festival E così come dal 2014 il festival è riaditato sulla base di questi connotati festivalieri Per l'appunto coniuga in maniera eccellente il gusto, le eccellenze dell'agroalimentare Che questo territorio riesce a esprimere E insomma sarà sicuramente una serata di grande spettacolo Oltre che una serata di gusto e di gusto espresso dal nostro territorio, dal territorio della DOP Cartoceto L'evento organizzato dalle Proloco di Fano, Monbaroccio, Montemaggiore, Saltara, Serungarina Dall'associazione Rosciano Insieme e della Proloco di Cartoceto Garantirà a tutti i presenti le eccellenze culinarie enogastronomiche del territorio Oltre alla Proloco di Cartoceto saranno presenti le altre reali DOP, le altre Proloco E saranno presenti con i loro prodotti principali Cioè ogni Proloco porterà il suo gusto del posto, del paese Ovviamente la Proloco di Cartoceto porterà il suo olio Che praticamente viene chiamato oro verde Proprio per questo perché sarà un prodotto principale del posto La cena si arricchisce per il secondo anno consecutivo Con un grande spettacolo musicale Assieme a un volto noto della tv italiana Di ieri e di oggi che porterà in scena un vero e proprio concerto cabaret Due palchi in uno, invece di uno ne avremo proprio due Uno proprio dietro le mie spalle dove si esibirà lo show completo di Nino Frassica e la sua band Mentre dal palco centrale del Settimo Cielo inizieranno poi a tarda sera Con l'orchestra Laura e Matteo, i balli popolari Non mancheranno le coreografie della New Dance Academy di Mattea Diamantini Che chiaramente aglieteranno o meglio ancora E faranno degli intervalli durante la cena Festa grande al Vallato, nel quartiere Vallato di Fano Per Zenilde Sorcinelli Arzilla signora residente in via Benedetto Croce Che ha festeggiato la bellezza di 100 anni L'importante traguardo è stato ricordato insieme a tutta la sua numerosa famiglia E anche dal sindaco Seri che ha fatto visita alla festeggiata Insieme a tutti i parenti e i familiari E auguri naturalmente anche da parte di tutti noi di Fano TV Adesso ci salutiamo qui Tra poco ci sono le previsioni del tempo, la pubblicità E poi una nuova puntata di Guarda chi c'è Grazie per averci seguito Vi do appuntamento domani mattina alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito